Dopo le rivelazioni fatte da Letizia Petris al Grande Fratello 2023, è intervenuta con un lungo sfogo l'ex fidanzata. Si tratta di Nicole Conte, colei con cui la GFina ha avuto una relazione in passato. La concorrente non ha mai nascosto di avere avuto una storia d'amore con un'altra donna, sin dall'inizio. Nelle scorse ore, Letizia ha raccontato di aver chiuso questa relazione dopo la morte del padre, il quale pare non riuscisse ad accettare la situazione. E mentre nella notte la Petris ha sbugiardato Massimiliano Varrese e un'altra GFina, ecco che l'ex fidanzata è intervenuta sui social network. La ragazza in questione, Nicole Conte, si è lasciata andare a un lungo e duro sfogo, con cui attacca Letizia, senza fare troppi giri di parole. Così ha dato inizio, allora parto dal principio. Sono stata zitta fino ad ora perché riandare a parlare di una persona che mi ha letteralmente rovinato la vita creandomi problemi personali per cui ho dovuto affrontare un percorso psicologico. Ne avrei fatto a me, ma dato che non è la prima volta che nomina la nostra relazione facendola passare come una relazione finita perché lei si sentiva in colpa nei confronti del padre anche no. A questo punto, l'ex fidanzata di Letizia del GF 2023 è tornata indietro nel tempo. Ripercorrendo la loro relazione Nicole ha spiegato che la loro storia è iniziata nel 2018. Con grandi difficoltà in quanto i genitori della GFina Non accettavano la cosa Nonostante questo, la relazione sarebbe andata avanti per tre anni, in cui la Petris avrebbe avuto un sacco di relazioni in contemporanea, per non farsi mancare niente anche con un'altra donna.